Il bagno nasce camera. Inizia una nuova avventura, un nuovo percorso che riprende i cinque anni passati e guarda avanti con tante novità. La principale, emersa nel Consiglio Comunale di Investitura del confermato sindaco Luca Dellabitta, che ha giurato ieri sera, è rappresentata dal coinvolgimento diretto di tutti i consiglieri di maggioranza nella gestione della cosa pubblica con deleghe specifiche. Con auspicata apertura al dialogo e alla collaborazione all'opposizione, invito che Angelo Passerini, scitto sconfitto con dignità dalle elezioni, ha declinato così. Se saremo convinti della bontà delle varie proposte dalla maggioranza, le voteremo, altrimenti... Disteso il clima, anche se puntuali sono state le osservazioni dell'opposizione a programma elettorale presentato dal sindaco, che lo ha ripercorso per intero, rimarcando in particolare la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante di Bette, del percorso pedonare sulla mera fino al campo sportivo e poi ancora fra gli altri la sistemazione del parcheggio dell'ospedale, la riqualificazione della piazza del comune, dell'area di San Fedele, l'ampliamento dell'offerta in termini di posti letto della RSA e la riqualificazione del centro sportivo comunale. A tutto provvederà la giunta confermata in toto con Davide Trussoni, vice sindaco, delega urbanistica, Andrea Giacomini, turismo e sport, Elena Del Rey, politiche sociali, Lorenza Martocchi, istruzione e giovani. I consiglieri delegati sono Roberto Scaramellini, medico per politiche sanitarie e salute, Elena Tam, arte e cultura, grandi eventi, Paola Giuriani, commercio e progetto merchandising e Pierangelo Morelli. Sui banchi dell'opposizione, accanto a Passerini, Marco Dellabella, confermato insieme a Lucia Del Giorgio, ieri assente giustificata e Giovanna Panzeri, new entry, dalla quale è giunto il richiamo a non adottare provvedimenti di facciata ma realmente incisivi. Appunto qui della Bitta ha risposto così. Non c'è spazio per le vetrine, fare l'amministratore significa essere concreto, non puoi sfuggire dai problemi, devi provare a risolverli. Particolare attenzione l'opposizione riserverà ad alcuni temi specifici. La sanità la metto al primo posto ma quel tipo di sanità che io intendo non solamente ospedale, come ho spiegato prima, ma sanità come servizi alla persona, sanità come servizi per i bambini, quindi potenziamento anche del servizio di neuropsichiatria infantile. Gli altri temi sono ovviamente le persone anziane. Occorre che si possano creare strutture che vadano incontro ai bisogni delle famiglie. Nessuna intenzione da parte di Passerini di lasciare dopo la sconfitta, pur dignitosa. Il fatto di non essere stato eletto non costituisce per me motivo di frustrazione. È vero che siamo arrivati a un 40% scarso, ma è anche vero che questo 39% corrispondono a 1586 persone. E io quando penso che ho di fronte 1586 persone penso che ho molto da fare.